Si è tenuto presso il primo circolo Oberdan di Andria in occasione del 25esimo anniversario dalla scomparsa di Don Tonino Bello un incontro testimonianza dal titolo La carezza di Don Tonino. Ascoltiamo le interviste al Vescovo della Diocesi di Andria, Monsignor Luigi Mansi e Renato Brucoli, amico di Don Tonino, nelle prossime edizioni del nostro telegiornale Le Altre Interviste. Eccellenza, anche la Diocesi di Andria ricorda Don Tonino Bello e soprattutto si prepara per il 20 aprile, data in cui Papa Francesco raggiungerà Molfetta. Sì, la celebrazione è importante perché è giusto e doveroso ricordare il 25esimo anno della sua partenza da questo mondo alle dimore del cielo e quindi non potevamo rimanere assenti, dovevamo esserci e questa è una delle iniziative. Ieri sera ce n'è stata un'altra in un'altra parrocchia e fra qualche settimana ce ne sarà un'altra ancora e quindi sono molto contento che la nostra Chiesa diocesana stia celebrando come merita questa bella figura di uomo, di credente e di pastore, di padre. Lo sentiamo molto vicino, sono passati 25 anni ma sembra ieri a leggere i suoi scritti. sembra di leggere cose di oggi, lui aveva una capacità straordinaria di mettere a fuoco i temi, i problemi e di dire delle cose allora, 25-30 anni fa, attualissime ma che a distanza di tanti anni risultano ancora come dette oggi per oggi. Quindi un uomo all'epoca davvero profetico e adesso per noi un grande maestro di fede e di vita cristiana. Il tema sul quale questa sera siamo chiamati a riflettere è la tenerezza di Don Tonino, cioè quest'uomo che pur dando insegnamenti altissimi e profondissimi, però li ha dati facendosi davvero vicino con infinita tenerezza a tutte le situazioni di fragilità umana che così hanno imparato ad amarlo, a seguirlo e a percepirlo come veramente un uomo di Dio. Stasera si parla della tenerezza di Don Tonino, spiegacela tu. Don Tonino è una carezza per questo mondo ed è, contrariamente a quanto si pensa, una figura molto materna. Secondo me lui ha riscoperto proprio la dimensione della maternità nella cura dell'altro e la riproposta. Alludo alla vicinanza umana, appunto alla prossimità, alla condivisione di vita, all'accompagnamento anche educativo delle giovani generazioni. In una parola alludo alla sua capacità di accarezzare il mondo e di servirlo.